C'è scritto ora? C'è la 44 C'è la 44 4104 Pezzi e chiaro Totò 4107 Buona Totò 4109 Camponino e partenza Movimento 4139 Non ci sta Niente E questo neanche Andiamo alla 4149 Buona Larga 4150 Pezzi dell'ultima Media 162 Camponino Fissa legata in movimento Senza finale E poi 44 45 E poi tutto il lavoro Porco Allora 35 41 Campo Carmela Movimento 35 47 Campo Fausto 1 35 48 Dettaglio Busta Andiamo alla 35 65 Pezzi Di campo Questo ride solo Come mai ridere Vabbè Meno sta facendo l'audio del film Ride solo Vorremmo capire su quale scena sta ridendo Riamo 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 Ti aprirai una fabbrica di materassi sicuro Ok abbiamo ripreso Meno che ride solo Ci abbiamo messo Ci abbiamo messo Ci abbiamo messo Cinque anni a far lavorare Melo Cambria Finalmente lavora Pure lui Ancora Saro non lavora Ancora Saro non lavora Ancora Saro non lavora il caso Tu l'hai detto Tu non cerchi la dimensione insondabile Non so di cosa tu stia parlando Forse Antonio Andiamo ad assaggi Chiediamo a voi Lui Mentre fai i lavori Tu la cerchi Cosa? La dimensione insondabile Sì Ciao ragazzi Sta dipendendo Allora siamo qui in studio da Federico 23esima strada Vabbè no La 23esima strada Come si chiama? Sì sì Vai avanti Saro Vai avanti Che cazzo Comunque Stiamo come potete ben vedere Selezionando le scene migliori Abbiamo finito già E scartato le peggiori E abbiamo finito Adesso Il nostro caro e buon Melo Cambria Bellissimo Sta passando l'audio a Federico Sincronizza Dopo averlo sincronizzato Federico questo bel ragazzo qua dovrebbe iniziare a cominciare qualcosa del suo lavoro Ma siccome non ha valia Inizierà a cominciare Deve iniziare a cominciare Ok Finito le scene Il lavoro Poi resterà Passerà subito A Melo Che perderà ancora un bel po' di tempo con l'audio Vabbè Antonio lo menzioniamo anche perché lui fa parte anche della nostra produzione Di materassi Di materassi Lui fa il Momento di pausa Dal lavoro Stiamo lavorando al film Loro si baciano Melo Cambria lavora all'audio Sta selezionando tutti gli audio buoni Lì Nella sua postazione provvisoria Dei cani Io faccio il montaggio ma si è impallato il programma Troppe cose aperte Che scena sei arrivato con l'audio? Sempre 40 Se muro lo stai dicendo ai tuoi fan No Alla scena 40 ragazzi Ragazzi lasciate guardare Dove andiamo fuori? Sparisci per un'altra volta 28 ottobre 2016 Sono solo in studio E sto rifinendo tutto il montaggio del film che ho finito qualche giorno fa Ho montato intanto in maniera grezza Ora sto approfittando di questi giorni per rifinire il tutto Anche per inserire qualche suono di ambiente Infatti Scusate la scrittura Così ma tanto serve a me per farmi delle bozze Sto segnando tutti gli errori Ho le cose da correggere Da sistemare Da aggiungere Delle varie scene E mano a mano mi li vado a sistemare Questa Allora questa qua è così Inizio è così E poi qua invece nel ritornello c'è la variazione Però io devo mettere solo questa Come abbiamo fatto giusto? Noi dobbiamo mettere solamente la parte Perché poi la strofa sarebbe così Noi dobbiamo mettere strofa e ridornarla Noi dobbiamo mettere strofa e ridornarla Passano gli ori Arriva la notte Allora lo devo mettere Ma pure queste le devi mettere E' la strofa Porco Queste cose sono straordinarie Ma conviene fare tipo Che questa Però no, perché la musica fa così. Non ho capito. Invece di farlo qui piene, di farlo così, conviene. No, ma lui le fa piene perché il tempo è quello. Perché sono suonate così. Perché sono suonate in quel modo. E se il cantato qua continua così, però la musica è così, è meglio la musica così, perché così è diverso, no? Perché scusa, questo qua non è il cantato. Allora qua sarebbe. Quindi questo no? Questo no. Allora il cantato, scusa, io il cantato lo faccio uguale alla prima. Ora, perché questo l'ho fatto come musica, quindi può essere che questo lo lascio solo musicato. E invece il cantato lo faccio due volte come questa parte qui. Eh. E questo qui può essere solo musica. Eh. Quindi noi registriamo il cantato come questa. E poi questa per dire può essere registrata come melodia. Eh, allora la lasci così. Quindi così dici tu che va a posto. Eh, allora va a posto, certo. Allora va bene così. Eh, allora lasciala così. Queste sono le uniche variazioni che ci sono in tutta la canzone. Cioè la canzone è questa. Poi che si ripeta 150 volte questo, 100 volte questa, la canzone è questa. Sì. Non troverai altri temi musicali. Mi pare di no. Andiamo là di nuovo a controllare. Noi dobbiamo scrivere i temi ricorrenti nel brano. Lo dico sotto interrogatorio. Sotto interrogatorio. Sì. Al bacio. Molto bene. Albano. Al solido. Vole sballare queste cose forti sono. Una volta che uno si insegna a fare le canzoni alla sigla, poi li può fare tante. Ti prendi di gusto. L'ispirazione manca poi. L'ispiramento. L'ispirerabile in nobilità. Hai fatto una foto? No, ho fatto sempre il coso lì. Sì. Però sono col video lì. Sì, l'avevo intuito. Ora facciamo un altro nuovo. Uguale. Come si chiama questa canzone? Questa si chiama... Micchia. Come si chiama? Così si chiama. È un testo impegnativo. Bello. Ti ricordi come l'avevo chiamata questa canzone io? Canto d'amore. Aspetta, ora vediamo. Allora, praticamente stiamo... Facendo i moduli per la CIAE, delle canzoni che ho scritto per il film. Ma siccome sono una capra, tipo con il pentagramma, ho chiamato a Federica che è un'esperta di teoria e solfeggio. di teoria e solfeggio e di canto lirico. Ma non è canto lirico. È canto rinascimentale. Canto rinascimentale barocco. Quindi se dovete fare qualcosa di canto di prima rinascimentale barocco, andate a Federica. Sì. Che è la professionista. Sì, in assoluto. Meglio dire non ce l'è. Credici. Ma scusi, lei come fa a conoscere la signorina Carmela? Lei è la signorina Carmela. Allora, primo giorno... Allora, come fa a conoscere la signora Carmela?